E ciao a tutti qui da AbelFC, in questo video vediamo insieme Ma prima di partire mi raccomando iscriviti al canale per vedere altri video come questo e non solo Lascia un commento qui sotto se hai dei dubbi o comunque vuoi avere altre informazioni E per ultimo dai un'occhiata anche nel link in descrizione a Fanta Calcio Pro Ma adesso partiamo! Non fare il pollo durante l'asta di Fanta Calcio Devi essere pronto a tutto e avere tutte le mosse ben chiare Evita come la peste questi 8 errori classici commessi da una gran parte dei Fanta allenatori E avrai sicuramente una marcia in più Se non fai neanche uno di questi errori sarai a 4 gradini in su rispetto al 90% di tutti i Fanta allenatori 1. Non essere puntuali Molti purtroppo non si organizzano nel modo giusto prima dell'asta Arrivando in ritardo nel giorno fatidico Facendo perdere tempo prezioso e facendo imbestialire tutti gli avversari Questa mossa ti porterà di sicuro ad avere il posto peggiore possibile per fare l'asta e le tue puntate E appoggiare le tue cose Sarai maltrattato da tutti dentro e fuori le gare e i rilanci per ogni singolo calciatore 2. Parlare dei giocatori della tua lista Sì esatto Incredibilmente Molti ancora oggi prima dell'asta e alcuni addirittura durante l'asta stessa Parlano dei giocatori su cui vogliono puntare Chiedono informazioni su di loro Chiedono se a qualcuno interessa uno dei suoi obiettivi Non fare una sciocchezza del genere 3. Non avere a disposizione cibo e bevande Se la location scelta per fare l'asta non ti dà la possibilità di acquistare bevando cibo È molto importante allora portarseli da casa Il tuo corpo necessita di rifornimenti Visto che mediamente un'asta di fonte a calcio dura 4-5 ore Se non hai un po' di liquidi e zuccheri ti spegnerai presto E ti mancherà la lucidità Proprio nei momenti più importanti 4. Fissarti con i tuoi beniamini e la squadra del quadro Mai fissarti con i tuoi beniamini o sulla tua squadra del cuore Dimentica questa cosa Ti porterà soltanto ad una gravissima sofferenza Devi prendere i cacciatori che ti servono A prescindere dalla squadra in cui giocano E a prescindere se ti sono simpatici o meno Al fantacalcio il tifo non esiste Devi essere il tuo cinico possibile 5. Ascoltare i suggerimenti Non cadere nella trappola dei suggerimenti da parte degli altri fantanellatori durante l'asta Nessuno ti potrà aiutare una volta iniziata l'asta Solo la tua preparazione e lista ti possono tirar fuori da brutte situazioni Usa il più possibile la tua conoscenza calcistica Non ascoltare suggerimenti fake dei tuoi amici 4.0 Anche il tuo miglior amico per farti perdere ti racconterà una grandissima bagianata Per farti sbagliare 6. Perdere la pazienza Questo errore è uno dei più gravi Perdere la pazienza e avere fretta di finire l'asta Ti farà piangere come un bambino il giorno dopo Quando ti ritroverai una rosa diventi sei fantasfigatti Mai prendere un impegno principalmente con la propria fidanzata o fidanzato Dopo l'asta o nello stesso giorno Se qualcuno riesce a prendere uno dei tuoi obiettivi Fai finta di niente Se ti arrabbi loro si accorgeranno di questo e ti faranno pagare poi dopo Mettiti il cuore in pace Pensa agli altri obiettivi che hai 7. Non avere il materiale giusto Non ti dimenticare mai della tua lista e appunti a casa Il regolamento ed il tuo telefono Questi strumenti sono fondamentali Ah sì, non dimenticare anche di tirar fuori le palle 8. Avere pietà Quando si gioca a fantacalcio non si deve avere pietà Devi pensare a prescindere da tutto Che per vincere devi battere tutti gli altri E che i tuoi cari avversari avranno lo stesso atteggiamento tuo Cercando di sconfiggerti in tutte le maniere E questo non significa essere cattivi Fuori dal fantacalcio O essere diciamo maleducati Deve essere chiaro che Il comportamento verso tutti gli altri fantallenatori Deve essere sempre corretto e giusto Dentro del regolamento E mai offensivo Ma dentro appunto le regole del gioco Non avere pietà Se ti è piaciuto questo video mi raccomando Iscriviti al canale Per vedere altri video come questo E non solo sul fantacalcio Lascia un commento qui sotto Se hai dei dubbi O ci vuoi lasciare un tuo parere E vai a vedere anche nel link descrizione Fantacalcio Pro Ci vediamo presto qui Da Abel AFC Ciao 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 ciao